Protezione civile di Novara, gruppo Scorpion, impegnatissimo in un servizio al comune. Un servizio per il comune che è l'assistenza all'Uver 65, per il servizio spesa e ricette mediche. Quindi noi andiamo, al mattino prendiamo tutte le chiamate dalle 8 a mezzogiorno, ma lo lasciamo aperto un po' di più, poi sistemiamo ricette e spese, attribuiamo i mezzi alle persone che vanno e si parte per le consegne. Si va a prendere dall'utente la lista spesa, i soldi per fare la spesa, si parte, si va a fare la spesa e gli consegna immediatamente. Prima che loro vadano vengono contattati dal nostro centralino che gli darà il nome delle persone che vanno in modo che loro siano certi delle persone e non aprano a chiunque. Si possa presentare come protezione civile o come comune di Novara e quindi hanno una garanzia loro, gliela diamo noi e poi quando gliela riconsegnano con lo scontrino noi portiamo a casa copia dello scontrino e gliela leghiamo perché la documentazione rimarrà tutta poi al comune di Novara. Per quanto concerne le ricette o dal medico o dall'utente se ce l'ha già a casa, in busta chiusa noi la portiamo a tutte le farmacie che poi alla sera porterà tutte le medicine direttamente, loro la portano ai pazienti insomma. E quindi questo è il nostro servizio che facciamo e si finisce alle 9 di sera. Il gruppo Scorpion attivato si può dire da un'ordinanza del comune di Novara e quindi è un servizio attivo ma ufficiale sul territorio. Sì, insieme ad altre associazioni che ci danno una mano perché la durata è lunga di questa diciamo previsione di servizio. Il tempo impiegato è tanto perché praticamente dalle 8 e 21 ci deve essere sempre qualcuno, il centralino, il centro operativo, la segreteria e poi il pomeriggio partono a fare le cose quindi gli operatori fuori. Vengono utilizzati sei mezzi al pomeriggio per poter soddisfare tutte le richieste che sono tante tra ricette e spese. Un mezzo verrà dedicato solamente per le ricette e gli altri 5 mezzi verranno distribuiti per le spese. Questo dicevamo per gli anziani che non hanno possibilità di muoversi e non hanno i parenti in pratica. Sì, perché noi il comune ha preparato una scheda alla popolazione per la popolazione che viene compilata con tutti i dati anagrafici. Gli viene appunto chiesto anche se hanno figli o parenti vicini o lontani in modo che sappiamo vedere se in effetti possono essere aiutati o se invece dobbiamo per forza intervenire noi. In più, in questo prestampato, addirittura c'è una parte per chi magari ha anche altri tipi di problemi. Il comune ci ha dato dei numeri di sostegno per gli handicappati, per problemi anche sociali e noi li dirottiamo, anzi li dirottiamo noi, nel senso che con la telefonata capiamo il tipo di problema, se non è inerente al nostro servizio attiviamo gli altri servizi. Un altro paio di cose, allora il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, questo è quello che ho appreso anche dal comunicato ufficiale del comune, giusto? Esatto, dal lunedì al venerdì. Io farei un applauso a tutti i volontari che esattamente in maniera diversa, ma esattamente come medici e infermieri, stanno tenendo qui in saede turni estenuanti e l'impegno è massimo, anche perché il periodo non è più bello anche dal punto di vista psicologico. Sì, diciamo che per tutti, anche per noi stessi, questa situazione può generare dei problemi, siamo i primi a dover comunque mantenere la tranquillità perché dobbiamo trasmetterla anche alle persone che ci chiamano, è impegnativo ma ce la faremo. Poi un'ultima cosa, importante far sapere che anche qui presso la sede del gruppo Scorpion, quindi della protezione civile di Novara, vengono comunque rispettate le misure di sicurezza per l'eventuale contagio. Sì, per questo abbiamo aperto più uffici, tenendo le postazioni distanziate a un metro ogni operatore, in modo che ci siano i tre operatori del centralino da una parte con la distanza richiesta. Questa sala operativa, se vedi, le scrivenie sono messe nella stessa maniera che ci sia la distanza di sicurezza e anche la sala volontari. Il tavolo è stato attrezzato affinché chi si siede ha un metro di distanza, in più chi, se si è in più, vanno fuori nel cortile ad aspettare, quindi non abbiamo problemi. È proprio organizzato in maniera tale di mettere in sicurezza anche qualsiasi volontario si mette sia in servizio. Stessa misura di sicurezza dell'ultima domanda, Claudia, che ti faccio. Come viene proprio tangibilmente effettuato il servizio sia di farmaci che di spesa agli anziani? Viene mantenuto da una distanza, lasciano la lista da qualche parte? Dici tu com'è proprio la dinamica? L'ordine è che nessuno entra dagli utenti. La dinamica apre la porta, sta sulla porta, l'utente sta all'interno, si allunga la mano, quindi è la distanza del brazzo, si prende la spesa, si passa la spesa e i soldi nella stessa maniera. Con i guanti, chiaramente, perché magari anche il signore non ha niente, ma non sappiamo da dove arrivano quei soldi, perché i soldi girano spesso e volentieri. Quindi, guanti per tutto il servizio, anche quando vai a fare la spesa per i carelli e non carelli, sempre guanti comunque e un minimo di tutela della mascherina, pur comunque non avvicinando mai più di tanto l'utente. Anche la farmacia, la stessa farmacia, c'è la procedura di sicurezza, quindi la farmacia si va là, si consegna la busta sul tavolo. Arrivederci e grazie, ce ne andiamo e poi ci pensano loro. La Polizia di Rito, infatti, dopo aver intervistato la Presidente Claudia Clerici-Bagozzi, intervistiamo un volontario, Michael Sibel, per noi Mike, abbastanza conosciuto anche in tutta Novara come il tedesco della protezione civile. Mike, io ti vedo molto provato, i turni sono estenuanti, tu sei una persona che tangibilmente va a fare servizio. Raccontaci un attimino com'è l'esperienza. L'esperienza come soddisfazione personale, devo dire, è positiva perché ci rendiamo conto comunque di essere utili a tante persone. Se devo dire, la mia settimana passata ho avuto sempre, quando facevo servizio spesa, siamo stati sempre ben accolti dalle persone. C'è chi ci voleva offrire il caffè, chi diceva venite un attimo dentro. Come Claudia ha già detto, sono cose che non possiamo fare, per sicurezza di tutti, diciamo, ma la gente poi lo capisce. Non ci sono state richieste assurde, anche nei supermercati dove andavamo a fare la spesa vedevano arrivare noi in divisa, le guardie all'ingresso ci davano, diciamo, ingresso prioritario. Alla cassa ci veniva aperta una cassa separata, quindi potevamo anche rendere un servizio abbastanza velocemente, perché comunque i servizi ogni giorno erano parecchi. Il servizio farmacie o medicine, come vogliamo chiamare, è relativamente più semplice, infatti in un pomeriggio se ne fanno molti di più, perché vai dal medico, sai i suoi orari, ritiri la busta con le ricette, vai in farmacia, che sa già che in questo periodo c'è da fare questo sistema di pronto farmaco, quindi la cosa si fa. È ovvio che se hai un tot di servizi da fare, non è che guardi l'orologio alle 18 e dici, ho finito il mio turno, vado a casa, mollo la tutta. No, li finisci fino a che trovi o il medico aperto o la farmacia aperta, quindi vai spesso oltre l'orario che potrebbe essere quello programmato dall'associazione. Però si fa e basta, siamo volontari, quindi abbiamo deciso di renderci disponibili a questo servizio. Chi può farlo lo fa, c'è chi sta tutto il giorno addirittura, chi fa mezzagiornata, chi fa la sera, cioè insomma ognuno dà la propria disponibilità e si impegna per le ore che può dare disponibile all'associazione e di conseguenza alla popolazione. Grazie. Allora manteniamo il nostro metro di distanza, siamo col vicepresidente Mirko Cadelano. Mirko, allora la Claudia ha un po' esposto quello che contraddistingue questo tipo di servizio d'emergenza che state facendo, abbiamo sentito anche Michael, un volontario attivo sul territorio, la parte diciamo più amministrativa o operativa, insomma cosa stai gestendo e qual è il tuo punto di vista e il tuo punto di operatività nel merito? Diciamo che la cosa da gestire è un po' più complessa perché siano tante richieste di tanti utenti, per cui abbiamo creato uno schema, è molto schematizzata la procedura per tenere l'allineamento dei dati sia di richieste fisiche di indirizzi piuttosto di necessità e riuscire in modo di gestirli senza perdita di tempo e senza sovrapposizione. Per cui abbiamo creato una modulistica, una proprio di riferimento in modo che tutti gli operatori fanno la stessa cosa, lo stesso sistema di approccio, di metodo, come anche al centralino, ci sono creato proprio una modulistica specifica di richiesta, non so se magari Claudio aveva già parlato, che vengono fatte delle domande di indagine per l'utente, capire le sue esigenze, magari anche un po' nascoste per avere qualche valutazione in più, abbiamo la stessa modulistica che tutti gli operatori che rispondono, rispondono tutti nello stesso modo, prendono lo stesso dato in una stessa maniera e noi le gestiamo in tutta la filiera di gestione, tutto in una stessa metodo che quando si fanno queste gestioni così un po' d'urgenza, per evitare gli errori devono essere proprio schematizzati, tutto in una stessa maniera, non fare variazione al momento. Capita l'urgenza comunque però. Te la senti di dare qualche consiglio ai cittadini? Perché credo che questo servizio di emergenza relativo agli over 65 andrà avanti per tutto il tempo del decreto del Governo centrale, te la senti anche di dare un consiglio magari anche ai cittadini che non sono over, come Vice Presidente dell'Associazione Scorpion di Protezione Civile? Consiglio, come già il Ministero ha indicato a tutti i metodi di comportarsi e cercare di escludere tutte le cose inutili che magari durante la giornata vengono a presentarsi, magari si può pensarci due volte, si evita di farle, magari attività che oltre a uscire, che si consiglia non uscire, ma anche all'interno della casa, anche nell'abitazione, magari il comportamento, il discorso di lavarci le mani in maniera curata, magari certe cose invece di riporre magari in un certo posto o diciamo un mobiletto così, si può magari riporlo, magari tutte quelle più a contatto con le mani in una posizione specifica, magari quel punto lì dove le riponi, pulirlo magari un po' di più del resto della casa, che magari non è che bisogna sanitizzare completamente tutto, magari un ambiente dove ripongo qualcosa che sono più a contatto con la parte orale del corpo umano, magari dargli un occhio di riguardo a quella parte lì. Mirko, se posso permettermi vorrei dare anche un consiglio di una cosa che mi è venuta in mente, documentandomi e studiando, magari non ha rilevanza particolare, però già in passato molti studiosi, molti specialisti della medicina hanno suggerito di fare, pulite più volte al giorno con un prodotto disinfettante o alcolico, il display del vostro smartphone. Perché dico questo? Perché in passato è stato identificato come un serbatoio di microbi, di batteri, quindi se c'è un virus che si contrai, credo che anche le tracce sul dispositivo possano essere significative. In quanto noi possiamo andare al supermercato, toccare un carrello, toccare dei soldi, prendere degli articoli che qualcuno ha preso, che qualcuno ha toccato e poi li ha riposti anche con i guanti. Poi si esce da lì, ci si va a casa a lavare le mani, si prende lo smartphone e prima magari di avere lavato le mani appena si esce dal supermercato, arriva il messaggio WhatsApp, uno risponde, rimane lì, poi vai a casa, lavì le mani, riprendi lo smartphone, il display non è pulito e non si sa mai, potrebbe, potrebbe, lo lasciamola come ipotesi. Sicuramente lo smartphone, tutte le progettizie che abbiamo in tasca, sicuramente lo smartphone è il vettore più comune che hanno le persone in tasca. La cosa importantissima è per esempio il telefono, non prestarlo mai, perché diciamo io uso il mio telefono, lo sporco, oppure lo contavano con i miei eventuali batteri che abbiamo già nel corpo umano e se fossi anche positivo, l'avrò il contominerato, nel momento che non lo do a nessuno, diciamo è roba mia. La prima volta che te lo presti, magari fai guarda questo WhatsApp e fai vedere, gli dai in mano il telefono, fai vedere un filmattino o magari un messaggio, o risponde al telefono, l'altra persona mette proprio vicino alla bocca la parte eventualmente contaminata dell'altro interlocutore. Infatti magari tocca lo smartphone, poi tu tocchi lo smartphone e poi magari inadvertitamente ti tocchi la bocca, il naso, gli occhi ed è andata. E allora con Mirko Cadelano chiudiamo questo servizio qui all'associazione Gruppo Scorpion di protezione civile di Novara, Gruppo Scorpion Novara, entrambi diciamo perché ci faccio parte anch'io, cittadinovara.com in duplice veste oggi, grazie a Fabio per le riprese, un volontario del Gruppo Scorpion, teniamoci in contatto per buone nuove, speriamo, positive. Grazie anche a te Alessio per questa opportunità di messaggio alla popolazione. Grazie a te Alessio per la visione!